Sono Paolo Alvieri, fondatore e socio unico di Printing Solution. Printing Solution è un sonno nato negli Stati Uniti nel 2008 con un caro. Serviamo realtà industriali e commerciali, tra cui Audi, Amica Chips, Pata, Intimissimi e oltre 1000 punti vendita di Eurospin. Creiamo allestimenti nel campo dello sci mondiale, del moto mondiale, del basket e del ciclismo. Operiamo come service per grandi general contractor e allestitori e sviluppiamo progetti chiave in mano per agenzie e brand. Seguiamo il cliente in tutti gli step creativi e realizzativi del progetto. Siamo apprezzati per la nostra qualità, flessibilità e tempestività. Ogni anno produciamo oltre 100.000 metri quadri di stampa digitale. Il mercato è cambiato. Oggi i clienti hanno commesse frammentate e tempi di consegna stretto. Esigono qualità estrema e non si pongono limiti di supporti e formati. Nel 2009 abbiamo acquistato la nostra prima VTEC 5330. Da allora abbiamo puntato sull'evoluzione della tecnologia EFI. Nel 2010 abbiamo introdotto una nuova QS220. Nel 2003 c'è una GS3250 Pro, la prima in Italia con tecnologia UltraDrop da 7 piccolini. Infine una GS5000R. Oggi abbiamo una VTEC 5R Plus con bianco, due VTEC LX3 Pro e una VTEC FabriVur 340. Su tutte le nostre stampanti usiamo il software Fiery XF. Abbiamo scelto la tecnologia Ingec di EFI per entrare nel mercato del Superwide perché ci garantisce affidabilità, qualità ed economicità. È stata la prima a introdurre la tecnologia LED su stampante industriale e ci ha permesso abbattere i consumi energetici e i costi di gestione. Nel 2019 abbiamo introdotto la stampa Superwide su tessuto per creare prodotti più sostenibili e reciclati. Abbiamo scelto VTEC FabriVur 340i con risoluzioni 2400 dpi e goccia da 4 piccolini. In questi anni la tecnologia EFI ci ha permesso di accrescere qualità e gamma di supporto. Per questo EFI resterà a lungo un partner chiave di printing solution. Grazie a tutti.